La Chiesa Grande è la festa che celebriamo oggi, giorno in cui la Chiesa festeggia l'ascensione al cielo di Gesù. Gesù, dopo 40 giorni dal giorno della Sua resurrezione, ascende al cielo. Ecco che Gesù è rimasto con i Suoi amici, con gli Apostoli, per 40 giorni. Per poter aiutare i Suoi amici, per poter rinvigorire il loro cuore, per poter asciugare le loro lacrime e ridare nuovamente l'infa a quei cuori che erano stati segnati da quel momento di morte. Ecco che Gesù nel cuore aveva quella fiamma viva di far comprendere loro che in Dio non si muore, con Dio si vince, con Dio non si perde mai. Anche la morte, che per tanti segna la sconfitta delle sconfitte, è vinta, in colui che è vita, in colui che è risorto, risorge e sempre risorgerà per condurre tutti alla vita eterna. Ecco la forza di Gesù che in quei 40 giorni si è manifestato più e più volte per dare vigore e forza a quei primi amici. Pace a voi! Abbiamo sentito più volte che Gesù ha rivolto quel saluto ai Suoi amici. «Mio Signore, mio Dio!» Gli è stato risposto, da Tommaso l'Apostolo, ma insieme a Lui da tutti gli altri, che lo hanno riconosciuto vincitore sulla morte, irrisorto. E in quei 40 giorni la forza in quegli amici è divenuta totale, affinché fossero pronti per portare quell'annuncio di vita al mondo intero. E così dopo 40 giorni Gesù si ricongiunge con il Padre. E in quel momento grande festa in Paradiso, così come è stato rivelato a Maria Giuseppina Norcia, la prima più grande festa che è avvenuta in Paradiso. Gesù si ricongiunge con il Padre e in quel momento si spalancano le porte del Paradiso. Ecco la grande festa che il Cielo vive per dar la possibilità a tutti coloro che erano in attesa di poter entrare e vivere la vita. Ecco la nostra festa. Ecco il vivere oggi quel momento vissuto allora. Ecco il nostro voler vivere questa festa dell'Ascensione nella consapevolezza che la promessa che Gesù ha fatto ai Suoi amici si è compiuta. Ecco ciò che è scritto negli Atti degli Apostoli. Gesù salì in cielo e lo videro andare su una nube. Allo stesso modo con cui Gesù sarebbe andato, così sarebbe ritornato, è scritto. Dal capitolo 1, al versetto 11 degli Atti degli Apostoli. E Gesù ha mantenuto la sua promessa, perché così come su una nube era salito, su una nube è ritornato. Ed è ritornato per far sì che tutti coloro che avrebbero vissuto da quel momento in poi l'itinerario del suo ritorno, potessero ascendere al cielo, salire al cielo, per vivere il cielo già ora, su questa terra, in questa dimora che il Padre ha stabilito. Ecco la dimora, nuova Gerusalemme, ecco la scala d'oro che il Patriarca Giacobbe vide, che è qui, in questa terra d'amore, in questa piccola culla del bambino Gesù, dalla quale salgono e scendono i Santi e gli Angeli, per potersi unire a coloro che sono stati chiamati in questi ultimi tempi a mantenere viva la fede nella Chiesa di Cristo, coloro che vogliono essere Santi su questa terra, coloro che non hanno timore di affrontare tribolazioni e martiri, testimoniando la propria appartenenza a Gesù. Ecco la terra d'amore, ecco la terra di coloro che vogliono ascendere, sono ascesi nell'attesa di poterlo fare nella totalità, spogliandosi di se stessi, morendo al mondo, per poter vivere già ora Cristo e il Suo Spirito risorto che procede nella storia. Ecco la certezza che Gesù lascia ai Suoi amici, la venuta del Consolatore, per non lasciarli soli. Quando verrà il Consolatore che io manderò dal Padre, lo Spirito di Verità che procede dal Padre, Egli mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Ecco ciò che venne allora. Dopo cinquanta giorni dalla Ressurrezione, dopo dieci giorni dal momento dell'Ascensione, il Consolatore arriva e si manifesta, effondendo il Suo Spirito, ecco il giorno della Pentecoste, su quegli amici, affinché potessero con ancor più forza condurre la propria missione e portare il Cristianesimo ai confini della Terra. E questo è avvenuto. Il Cristianesimo è stato portato ai confini della Terra. Ma certo, l'azione dello Spirito Santo non si poteva esaurire in quel momento. Non si poteva esaurire l'effusione dello Spirito. Lo Spirito mai ha smesso di effondersi. L'azione dello Spirito mai ha smesso di manifestarsi nella storia, per giungere al momento in cui la manifestazione doveva essere piena e totale. Ecco questi tempi. Ecco perché su quella pietra posta accanto alla piccola culla vi è quella scritta che Maria Giuseppina Norcia ha voluto far scrivere alla luce di quanto le era stato rivelato dal Padre. Questa culla, questa Terra d'Amore, questa Nuova Gerusalemme è stata preparata per l'Era dello Spirito Santo per il compimento di pace. Ecco la manifestazione dello Spirito in quel tempo pieno che ora stiamo vivendo affinché lo Spirito potesse manifestarsi per poter condurre i figli di Dio in verità al compimento di pace. Ecco la chiave scatologica che ci fa comprendere ciò che sarebbe successo. Io manderò il Consolatore, lo Spirito di Verità che procede dal Padre. Nello stesso tempo Gesù parla apertamente a quegli amici e preannuncia loro che sarebbero arrivati tempi di tribolazione e di persecuzione. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoge. Anzi, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho dette queste cose perché quando giungerà l'ora voi ricordiate. Quando giungerà quel momento vi ricordiate che io ve ne ho parlato prima. Ecco ciò che hanno dovuto vivere quegli amici, primi amici di Gesù. Ecco ciò che hanno dovuto vivere tanti martiri e santi che hanno voluto testimoniare il loro amore per Gesù, offrendo anche fisicamente la propria vita. Ed ecco quello che si vive anche ora in quella viva spiritualità che contraddistingue chi offre la propria vita per amore del Signore. Ecco la scelta di chi ha voluto abbracciare questa fede, la nuova Gerusalemme, andando incontro alla derisione del mondo, ad un accanimento spirituale senza precedenti, pur di rimanere fedele a Gesù. La colpa di questa Chiesa è quella di annunciare la verità per far sì che tutti vogliano e possano rimanere in comunione con lo Spirito di Gesù, senza allontanarsi, senza allontanarsi da quell'insegnamento che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci hanno donato. La fratellanza si compie solo e soltanto in Cristo. Non vi può essere fratellanza fuori da Cristo. Questi sono tempi di apostasia viva e totale, dove anche chi dovrebbe rappresentare i cristiani, i cattolici, stringe patti con chi professa un'altra idea di religione che non è in comunione con il cuore del Padre, dicendo che si è tutti quanti fratelli e affermando, così è stato fatto ad Abu Dhabi, in quell'incontro chiamato incontro di fratellanza, dove è stato scritto ufficialmente che il pluralismo e le diversità delle religioni sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Il capo di una Chiesa cristiana, il capo della Chiesa cattolica, mai avrebbe dovuto fare e siglare un'affermazione simile. Un conto è parlare di concordia tra i popoli, che si deve basare sulla lealtà, sul rispetto della sacralità della vita, della pari dignità tra uomo e donna. Questo sì, ma non affermare che la pluralità delle religioni è una sapiente volontà di Dio. Questa è un'eresia, perché la volontà di Dio si manifesta nell'unica volontà incarnata, Cristo, Gesù, Suo Figlio, e di conseguenza nell'unica religione che nasce dal cuore di quel figlio. Ecco perché ora dobbiamo difendere la cristianità. E questo ha comportato anche per questa Chiesa prese di posizioni forti, che hanno portato questa Chiesa ad essere accusata, e da un punto di vista religioso, con quel provvedimento che ha portato alla scomunica tutti coloro che avrebbero desiderato e desidererebbero vivere questa Chiesa. Ma non ci si è limitati solo a quello, perché quel potere religioso, divenuto potere, è riuscito ad infiltrarsi anche in altre realtà della società civile che hanno cercato di mettere a dura prova questa Chiesa e noi figli. Non fa nulla. Noi proclameremo la verità, come hanno fatto quegli amici di Gesù a quel tempo, perché une la verità, Gesù Cristo, e si deve difendere Gesù ad ogni costo, costi quel che costi. Ecco Gesù, che mai farà mancare il suo aiuto ai suoi figli. Ecco quella speranza che in Gesù diviene certezza. Ecco le parole rivelate da Gesù alla sua fanciulla, in quella rivelazione che oggi pubblicheremo del 13 aprile del 1995 per poter rendere ancora più pubblico ogni messaggio che il Cielo ha rivelato alla sua fanciulla. Quel messaggio dato nel giorno del Giovedì Santo del 1995 che parla della salita al Cielo di Gesù, dell'ascesa al Cielo di Gesù, dove Gesù già allora racconta ciò che in quel momento poteva vedere mentre saliva. Mentre mi avvicinavo sempre più al Padre, guardavo la terra che si allontanava e vidi in un attimo tutta la storia futura. Vidi i miei figli perseguitati e uccisi, vidi i miei figli implorare la pietà del Padre, vidi in un angolo, in una terra lontana dal luogo dove ero vissuto, vidi una fanciulla giocare in un prato, vidi me bambino e poi una culla, vidi due figlie care al mio cuore e poi una folla, un popolo giungere a pregare ai piedi di una culla che non somigliava più alla mangiatoia dove fui deposto, appena nato. Tutto io vidi mentre salivo al cielo, tutto il disegno del Padre su questo luogo santo dove io ogni giorno lascio tanto amore, dove Maria mia madre tutti i giorni è qui a raccogliere le preghiere dei Suoi figli. Ecco la speranza che diviene certezza. Ecco che in questo luogo quelle parole si compiono. Ecco tanti figli che sono venuti in questa culla per attingere da quel cuore. Ecco la promessa mantenuta di Gesù nel mandare il Consolatore. Non siate tristi, non si è rattristato il vostro cuore, disse Gesù a quegli amici. E quelle parole valgono allora e valgono ora per tanti che oggi sono tristi perché non trovano più Gesù. Hanno ben compreso che lo Spirito di Gesù non è più presente in una realtà che lo ha scartato, che lo ha mercificato, che lo ha svenduto, mettendo Gesù al pari, così come è detto, al pari di altre filosofie religiose. Ecco Gesù mortificato, ecco il suo sacrificio vanificato. E tanti hanno compreso che lo Spirito di Dio non è più presente e lo cercano e sono tristi perché non lo trovano. Non siate tristi, non vi sia tristezza, perché Gesù ha mantenuto la sua promessa. Ecco che lo Spirito è ritornato in questa terra d'amore. Ora io vi dico la verità, dice Gesù in questa pagina del Vangelo di Giovanni. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma quando me ne sarò andato ve lo manderò. Ecco questo intreccio vivo che Gesù ci fa comprendere tra la verità, tra il Consolatore e questo mistero trinitario. Gesù fa comprendere che è bene che lui vada affinché il Consolatore, un altro Consolatore, come Gesù ebbe a dire in precedenza al capitolo 14 di Giovanni, un altro Consolatore potesse giungere. Ecco quel voler avanzare nello svelare il mistero trinitario. Lo Spirito è Uno, unigenito è lo Spirito. Gesù si manifesta come colui che è Via. Lo disse a Tommaso. Voi conoscete la Via e quindi conoscevano Gesù. Ora qui Gesù avanza e dice Ora io vi dico la verità e lega la verità al Consolatore, alla discesa del Consolatore. Ecco lo Spirito del Cristo risorto che è sceso in questa terra d'amore e che ha preso per mano i Suoi figli per poterli condurre alla verità tutta intera. Ecco la Nuova Gerusalemme. Ecco la dimora che il Padre ha voluto stabilire insieme a Gesù e allo Spirito Santo, dove abita la Trinità, su questa terra, dimora metafisica. Ecco il congiungimento che vi è con il Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco la scala d'oro che congiunge il cielo alla terra. Ecco Gesù che sempre in quel messaggio del 13 aprile del 1995 dice «In questa Pasqua in cui si celebra la mia Resurrezione, fate risorgere in ognuno di voi il rispetto e l'amore per i comandi del Padre. Fate rinascere nei vostri cuori l'amore per tutti i vostri fratelli. Fate che scorga un sorriso sul volto di chi non ha mai conosciuto le meraviglie del Signore. Conducete per mano i vostri fratelli ai piedi della mia culla. Dite loro che io qui li attendo. Dite loro che qui io ritornerò. Io qui stabilirò la mia dimora e accoglierò i figli che hanno saputo donare il loro cuore al mio amore. È tornato il Consolatore, lo Spirito del Cristo risorto, così come Gesù aveva promesso. Io lascio a voi, figli miei, questa certezza. Confidate nell'amore del vostro Signore. Attendete con serenità il giorno in cui il Padre concederà a tutti voi di vedere e di vivere insieme al Figlio di Dio in cui si è confiaciuto. Abbiamo atteso, abbiamo sperato, abbiamo accolto e ora viviamo. Ringraziamo questa fanciulla che ha spalancato il suo cuore facendo sì che lo Spirito del Cristo risorto che in quel bimbo divino è entrasse nel suo cuore per dimorarvi e così lo ha portato a tutti quanti noi per poterlo manifestare nel tempo stabilito dal Padre. Ora, l'attesa si è compiuta e uniti avanziamo in questa Chiesa stabilita dal Padre che ha ricevuto autorità dallo Spirito Santo che vuole far rimanere tutti nella unica vera fede in Cristo Signore, Re dei Re e Signore dei Signori. A Maria Santissima affidiamo la nostra vita, a Maria Santissima consacriamo il nostro cuore per farci gioire in questa Ascensione Santa che già ora viviamo in questa dimora che è stata stabilita e costituita in Cristo e Maria. E così sia.